Ciao ragazze, ciao ragazzi. Oggi vi voglio parlare, voglio condividere con voi l'esperienza vissuta con una mia cliente proprio oggi, alla termine di cinque mesi di protocollo. Questa mia cliente è arrivata a me, come spesso accade, come ultima spiaggia, come ultima possibilità. Ma la cosa peggiore di tutto questo non è che è arrivata da me perché ha provato mille altre diete, perché non ha avuto risultati, perché li ha avuti e li ha persi, le solite cose che conosciamo tutti. Il particolare molto significativo di questa storia che vi sto per raccontare è che questa mia cliente è giunta a me disperata perché durante l'ultima visita con il suo medico curante si era sentita maltrattare e bistrattare e come unica possibilità per recuperare una condizione fisica e di salute gli era stato proposto la possibilità dell'intervento bariatrico. Allora, voi sapete che io, come suol dirsi, non sono dolce di sale, non sono una persona molto accomodante, sono una persona che studia la personalità, studia la situazione nel suo insieme, nel suo complesso di ogni singolo cliente e poi stila un piano, un programma affinché questa persona possa raggiungere il suo obiettivo. Durante questo programma ovviamente ci sono strategie che si alternano ma ci sono anche strategie psicologiche da utilizzare perché ognuno di voi ha una personalità, ognuno di voi ha una sensibilità. Allora, se qualcuna merita sempre e solo calci nelle gengive, c'è qualcun altro invece che ha bisogno di essere accolto, ha bisogno di essere capito. Poi il calcio nella gengiva ci sarà sempre, ci sta sempre perché quello è come il bianco, va su tutto, però non sempre e comunque. Quindi anche quando pensate dall'esterno che io sia uno capace soltanto di cazziare, vi state completamente sbagliando. Io utilizzo una strategia generale alimentare, psicologica, di sostegno per ognuno di voi. Se c'è qualcuno che trova solo delle scuse, se c'è qualcuno che ha bisogno di una sferzata, se c'è qualcuno che ha bisogno di essere messo di fronte a una dura realtà, verrà messo di fronte a una dura realtà. Che comunque non risparmio a nessuno, ma che comunque è necessario utilizzare a seconda delle sensibilità. Per farla breve, questa mia cliente in cinque mesi di protocollo ha perso 30 chili, ok? E la cosa che mi ha detto, la sua più grande felicità non è soltanto quella di aver perso 30 chili nel corso di questi cinque mesi. Ma quella di non veder l'ora di tornare dal suo medico curante, farsi trovare con 30 chili in meno e proprio avere quel desiderio di sentire che cosa ha da dire questo medico che l'ultima volta l'aveva maltrattata, l'aveva bistrattata e come unica possibilità le aveva prospettato quello di un intervento chirurgico. Allora, quello che voglio dirvi io è che va bene tutto. Spesso e volentieri avete bisogno di essere maltrattate perché maltrattate voi stesse e quindi non è neanche una cura giusta quella di dirvi sempre poverine, quella di andare a ricercare sempre quell'aspetto, torniamo, facciamo le regressioni, proviamo a capire che traumi infantili abbiamo avuto. Se io dovessi fare una cosa del genere mi dovrei solo uccidere, d'accordo? Allora, va bene capire però a un certo punto bisogna agire, bisogna utilizzare delle strategie perché dobbiamo risolvere un problema. Se rimaniamo dentro alla psicologia solamente il grasso resta, anzi aumenta. Quindi fidatevi ed affidatevi di chi comunque utilizza delle strategie personalizzate sulla base delle vostre esigenze che non sono solo alimentari. Fate attenzione e bravissima alla mia cliente!